Bentornati sul nostro canale YouTube All-in-One Che sacole ci sono buscatoi? Puoi andare? Fermo! Manca qualcosa? So proprio affezionato a sta moneta Con Castel del Monte Lo conosci? Sì Perché non ne parliamo oggi? Why not? Sigla! Castel del Monte si trova in Puglia Situato sull'alto piano delle morge Sopra un'altura a 540 metri sul livello del mare E appartenente al comune di Andria Esso rientra fra i siti protetti dall'UNESCO Come anche Villa del Casale a Piazza Armerina Di cui abbiamo parlato in una precedente pillola E per la quale vi lascio il link in sovraimpressione Colui che dede l'ordine di edificare la struttura Fu Federico II Oestaufen Nipote di Federico Barbarossa Sovrano del Sacro Romano Impero E conosciuto come lo Stupor Mundi Appassionato di matematica e poesia Filosofia e astronomia Era dotato di uno spirito cosmopolita Tanto da accogliere alla sua corte Studiosi greci, italiani, ebrei ed arbi Grazie alla sua personalità di sovrano illuminato Viene considerato precursore degli umanisti Ossia di tutti quegli eruditi Che fra 4 e 500 Posero l'antico come oggetto di studio Di imitazione e confronto Durante il regno di Federico L'intensa attività culturale Nell'Italia meridionale Si svolse in un clima di pace Toleranza e prosperità Il cantiere ebbe inizio nel 1240 Il castello rientra nel sistema Di insediamenti fortificati Che Federico promosse nel suo regno Realizzandoli ex novo Come in questo caso O elaborando preesistenze normanne Castrum Sancta Maria de Monte Era l'originaria denominazione del castello Per via di un vicino monastero benedettino Per via dell'articolata e tesa situazione politica Fra l'imperatore e il papato Si richiedeva un'incessante mobilitazione di truppe Su un ampio scacchiere geopolitico Con impieghi esorbitanti di denaro Che inevitabilmente doveva essere sottratto Alle strutture difensive in costruzione Come valse Sebbene in minor misura Anche per Castel del Monte Che strutturalmente terminato All'interno deficitava di svariati aspetti decorativi Per quanto riguarda l'alzato In pietra calcarea locale Si compone di un corpo centrale Alto 20 metri e a pianta ottagona Con cortile interno E otto torri pseudo-ottagonali Alte 23 metri Innestate sui suoi spigoli Alcune di queste torri Accolgono cisterne per la raccolta delle acque pivane In parte convogliate anche nella cisterna scavata nella roccia Al di sotto del cortile centrale In tre torri invece Sono ubicati bagni Dotati di latrina e lavabo Affiancati tutti da un piccolo ambiente Probabilmente utilizzato come spogliatoio O forse destinato ad accogliere vasche per abluzioni Poiché la cura del corpo Era molto praticata da Federico e la sua corte Secondo un'usanza tipica di quel mondo arabo Tanto amato dal sovrano Il portale d'ingresso di forma ogivale È interamente di breccia rossa corallina Impreziosito da due leoni Posti sopra due colonnine addossate agli stipidi Mentre nell'unettone sopra l'architrave Probabilmente prendeva posto un gruppo scultoreo in marmo Con il nostro Federico in trono Affiancato da due illustri personaggi della corte L'entrata è sovrastata da un architrave dentellato Sorretto da due le sene Scanalate con capitello Su cui si erge un timpano Anch'esso dentellato Sormontato da un attico E da una bifora Una cornice marca piano Corre lungo tutte le facciate della fabbrica Definendo i due livelli di cui si costituisce Si aprono otto monofore al piano terra E sette bifore Ed una trifora al piano superiore Invece le porte finestre Che si affacciano sul cortile Davano su un ballatoio ligno sporgente Impostato su un mensole di pietra Grazie a questa struttura Accessibile da tre sale Il piano nobile era dotato di un balcone Che correva lungo tutto il perimetro Con affaccio scenografico Su una presunta fontana Al centro del cortile Ad oggi comunque non più esistente I due livelli sono messi in comunicazione Da Scala e Chiocciola Alloggiati in tre delle otto torri Piano terra e piano nobile Hanno la stessa altezza E la stessa conformazione Rappresentata da otto sale A pianta a trapezzo idale Con volte a crociera Impostate su semicolonne Al primo livello E su pilastri trilobati al secondo Gli ambienti sono comunicanti Tramite ampie porte di raffinata fattura Con relative riquadrature In breccia rossa corallina I camini del piano nobile Il primo piano Hanno un'alta cappa Mentre ambo i lati Si dispongono panche in marmo I pavimenti presentavano Una decorazione ad intarsio Mentre le pareti Erano foderate in marmo Il corredo decorativo Seppur mai terminato Si sviluppa lungo tutti i sistemi Di copertura a volta E sostegno Con una lunga serie di capitelli E di fioroni In veste antropomorfa Zoomorfa E fitomorfa A cui si affianca Un prezioso insieme Di rilievi figurati Sulle chiavi delle volte O sulle mensole Come mascheroni O telamoni Che attingono direttamente Dal repertorio Delle cattedrali gotiche Impressionante Il complesso sistema idrico Con tubature di carico E scarico In pietra Argilla E rame Spiati Gocciolatoi Cisterne pensili Sulle torri Cisterne sotterrane Toilette E lavabie Tornando alla cronistoria Del monumento Dopo la morte di Manfredi Ultimo sovrano svevo E figlio illegittimo Di Federico Fu l'avvento De Yangio Casato francese Che sin all'inizio del 300 Occupò tutto il sud Italia Per poi cedere agli aragonesi A questo punto Castel del Monte Viene utilizzato come carcere Nonostante le guardiole E le grate Apposte sulle finestre Il castello conservava ancora La sua magnificenza Se nel 1308 Beatrice Figlia di Carlo II D'Yangio Si risposò in questo edificio Più tardi Nel 1449 La struttura conobbe Il suo ultimo momento Di splendore Quando passò in mano Al re Alfonso V D'Aragona Che utilizzò Castel del Monte Come reggia di lusso Forse proprio come Venne concepita all'inizio Nel 1507 Risulta proprietà Del generale spagnolo Gonzalo Fernandez De Cordoba A servizio di Re Ferdinando il Cattolico Il sovrano Che finanziò I viaggi di Colombo Di cui trovate il link In sovraimpressione Più tardi Nel 1552 Il figlio del Fernandez Consalvo II Vende il feudo di Andrea In promozione Insieme a Castel del Monte A Fabrizio Carafa Conte di Ruvo Lo sfarzo degli ambienti È ancora attestato Dai visitatori Che vi giungevano Nel corso del Settecento Nonostante Proprio in questo periodo Il re di Sicilia Carlo III di Borbone Stava asportando Una grande quantità di marmi Per riutilizzarli Nella reggia di Caserta Dopo un lunghissimo periodo Di abbandono Nel 1876 I conti Carafa Rivendono Castel del Monte Allo Stato Italiano Che ne dispone il restauro Infine la pianta ottagona Rimanda senz'altro Alla cappella palatina Di Equisgrana E retta da Carlo Magno Dove Federico venne incoronato Re di Germania Nel 1215 Inoltre Il valore simbolico Dell'ottagono Rappresenta una figura Mediatrice Tra cielo e terra Secondo Un'iconologia architettonica Elaborata già Nei mausolei imperiali Di epoca tardo antica E in seguito Diffusasi In edifici di ogni genere Dai battisteri Alle torri campanarie O alle torri difensive Castel del Monte Possiede un valore eccezionale Per la perfezione Delle sue forme L'armonia E la fusione Di elementi culturali Venuti dal nord Europa Dal mondo musulmano E dall'antichità classica Bene La pillola finisce qui Se vi è piaciuta Mettete un like E iscrivetevi al canale Attivando la campanella Ci vediamo alla prossima pillola Ciao Ciao Ciao